Il Paradiso 9, Anticipazioni autunno, Marta scopre dei segreti sul padre e lascia la villa. Le anticipazioni del Paradisi delle Signore 9 rivelano che nel corso della stagione autunnale si assisterà a una frattura nel rapporto tra Umberto Guarnieri e sua figlia Marta. La donna si ritroverà a fare i conti con la scoperta di alcuni segreti legati alla vita del padre che finiranno perturbarla profondamente, tanto da spingerla a lasciare Villa Guarnieri, andando via di casa per un po' di tempo. Marta inizia a collaborare con suo padre Umberto, Anticipazioni il Paradisi delle Signore 9 Umberto continuerà ad essere il cattivo per eccellenza nel cast della nona stagione della soap prevista dal 9 settembre in tv. Il commendatore, interpretato da Roberto Farnesi, si ritroverà al timone della Galleria Milano Moda assieme a Tancredi e quest'anno potrà contare anche sul supporto di Marta. La giovane Guarnieri deciderà di dare una mano al padre nella gestione del suo negozio che continua a essere in guerra con il paradiso attualmente guidato da Marcello Barbieri e Roberto Landi. Una collaborazione fatta di alti e bassi e continui scontri che porteranno anche Marta a scoprire delle amare verità sul conto del padre. Marta scopre dei segreti sul padre e lascia Villa Guarnieri. Marta verrà a conoscenza di alcuni segreti legati al passato di Umberto Guarnieri, che finiranno per destabilizzarla. Segreti che fino a questo momento Umberto aveva tenuto nascosti a sua figlia ma, adesso, si ritroverà a dover affrontare in prima persona queste situazioni. Marta resterà scossa e dopo un acceso scontro con il padre, arriverà a prendere una decisione inaspettata, lasciare definitivamente Villa Guarnieri e cambiare casa. Una frattura che li metterà a dura prova, dato che Marta si renderà conto di non riuscire più a guardare suo padre Umberto con gli stessi occhi di prima. Marta era rientrata a Milano dopo una delusione sentimentale nella stagione precedente della SOP, Marta era rientrata a Milano dopo un lungo periodo di assenza in seguito a una rottura sentimentale che la spinse a ricercare affetto tra i suoi familiari. La donna ebbe modo di riabbracciare suo padre Umberto ma, soprattutto, la contessa Adelaide che per lei è sempre stata molto più di una zia. Marta la considera una sorta di seconda mamma e nel corso degli anni della sua crescita è stata proprio lei la confidente preferita di Guarnieri. Un rapporto speciale che, quest'anno, potrebbe essere messo in crisi dall'arrivo di Odile, la figlia naturale della contessa che arriverà a Milano dopo aver vissuto in Svizzera per diversi anni.